E' andato, ha fatto un video bellissimo, ha messo una musica bellissima, l'avete vista tutti, ma proprio per questo noi vi facciamo vedere invece una cosa che non ha visto nessuno. Esatto. Eh? Un'intervista fatta a Di Maio subito dopo. Quindi lei ha convinto Putin per telefono? Assolutamente. Quante telefonate ha dovuto fare per convincerlo? Ne avevano fatti una trentina, circa 40. In questo momento lei è molto richiesto all'estero, vero? Certo. Cosa le chiedono i leader mondiali in questi giorni? Ciò che mi chiedono principalmente è quando possono venire a farmi visita. Non le manca un po' il vecchio Di Maio? A tutti, io credo, a tutti noi, almeno noi che lo conosciamo, ci manca e manca, perché comunque è una persona che ha una grande forza d'animo, una grande visione. Cito un suo tweet. Si torna a casa, ringrazio il Movimento 5 Stelle, Papa Francesco e i Village People, fonte di grande ispirazione in questi giorni. Perché proprio i Village People? A me affascinava l'idea di questi uomini in divisa. E qual è il suo preferito? Il poliziotto. Grazie. Grazie a lei. E un applauso adesso.